Gentili telespettatori, buona giornata. Colpo di scena, però neanche tanto. L'Istat nel rapporto sul primo trimestre dice sono aumentate le tasse in Italia. Sono aumentate le tasse. E attenzione, già con l'aumento dell'inflazione da sole le tasse in percentuale, cioè più che in percentuale, in termini monetari sono aumentati. Perché se una cosa costa 100 euro e immaginiamo si paghino di tasse 20 euro, oggi se quel prodotto costa 108 euro le tasse non sono più 20 euro, ma saranno 21,6 euro. Quindi automaticamente le tasse sono già aumentate da sole. In termini monetari, non in percentuale, ma in termini monetari. La percentuale di tasse era sempre quella con l'inflazione, però aumentano i soldi che vanno nelle casse dello Stato. Quindi con l'inflazione, attenzione, il governo già ci guadagna. Il gusto ci guadagna. Il governo ci guadagna perché aumentano soldi nelle casse dello Stato con l'inflazione. Con l'aumento del prezzo della benzina, lo Stato incassa più soldi. Con l'aumento del gas, lo Stato incassa più soldi. Con l'aumento del prezzo degli alimentari, di qualsiasi cosa, lo Stato incassa più soldi. Però qui è un altro. Qui aumentano le tasse proprio. Aumenta la pressione fiscale. Che si va a sommare sulle tasse già aumentate per l'inflazione, in termini monetari. Lo Stato esulta, anche se non si vede. L'ennesima dimostrazione è che questo antico detto, che lo Stato esulta e il cittadino piange, questo antico detto corrisponde alla verità. Gli ultimi dati resi noti dall'Istat. Nel primo trimestre del 2022, l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche sul PIL si è marcatamente ridotto in termini tendenziali, per il consistente aumento delle entrate, che ha più che compensato l'aumento delle uscite. Avete capito? L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche, che è in percentuale, è diminuito, perché sono aumentate le tasse, sono aumentate le entrate, e quindi l'indebitamento in proporzione alle entrate è più basso. Quindi non vuol dire che le amministrazioni pubbliche hanno speso di meno. Vuol dire che hanno speso anche di più, magari, ma le entrate dello Stato sono talmente state più alte, che in percentuale la pubblica amministrazione risulta meno indebitata. Per il consistente aumento delle entrate, che ha più che compensato l'aumento delle uscite. Secondo i numeri resi noti dall'agenzia di stampa ANSA, la pressione fiscale si attesta al 38,4% del PIL, in aumento di mezzo punto percentuale, rispetto al primo trimestre del 2021. Complessivamente, nel primo trimestre del 2022, le amministrazioni pubbliche hanno registrato un indebitamento netto pari a meno 9% del PIL, in miglioramento rispetto al meno 12,8% del corrispondente periodo del 2021. Questo è la fine delle buone notizie. Cioè, l'amministrazione pubblica è quasi il 10% in meno indebitata in percentuale rispetto al PIL. Avete capito quello che vi dicevo prima? Non è che l'amministrazione pubblica spende di meno, ma ci sono più entrate. È come una famiglia che spende 100 euro e ne entrano 1.000. Poi ne spende 105, il mese dopo però ne entrano 2.000. E allora quelle spese, in proporzione alle entrate, sono più basse. Le buone notizie terminano qua. E cominciano quelle negative. Problemi che toccano lavoratori, studenti e pensionati, imprenditori e partite IVA, tutti. Nel primo trimestre il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento di prezzi, il potere d'acquisto è cresciuto soltanto del più 0,3%. Come dire, se si sommano le tasse che crescono, uno Stato che non riesce a contenere gli sprechi di una macchina burocratica lenta e inefficace, ai limiti del fantoziano e la crescente inflazione che va a intaccare in modo sensibile il potere d'acquisto degli italiani, il risultato finale è decisamente negativo. Con una buona pace per chi sperava in un'impennata dei consumi, a tutto ciò va poi sommata la propensione al risparmio delle famiglie che è stata pari al 12,6% in aumento di 1,1 punti rispetto al trimestre precedente. A fronte di una crescita della spesa per i consumi finali più deboli rispetto a quella del reddito disponibile. Più 1,4% e più 2,6% rispettivamente. Gli italiani hanno meno disponibilità economica e maggior paura per il futuro e sono convinti che le imposte aumenteranno ancora a fronte di stipendi sempre più miseri. Il dato è che la pressione fiscale passa dal 37,9% al 38,4% del PIL. Pertanto aumentano le tasse. Questo è un qualcosa che non lo trovate sui giornaloni principali. Provate ad aprire quei 3-4 giornaloni con quei nomi famosi e di questo non c'è traccia. Io l'ho trovata questa notizia solo su iltempo.it iltempo giornale romano che ci racconta appunto oggi 5 luglio 2022 in un articolo di Christian Campigli che le tasse sono in aumento. La pressione fiscale è aumentata del mezzo punto percentuale. Non lo dicono perché molti giornali sono fiancheggiatori, spalleggiatori del governo dei migliori. Ricordatevi che nel governo dei migliori c'è dentro centro-destra e centro-sinistra. Quindi la maggior parte dei giornali di centro-destra e centro-sinistra omettono queste notizie. Omettono. Il tempo che è un giornale più vicino in questo momento all'opposizione di Fratelli d'Italia è l'unico che tira fuori questa notizia. Strano, vero? Tutti i giornali che sono più o meno fiancheggiatori di partiti che sono al governo tacciono. Il tempo che è uno dei giornali più vicini negli ultimi tempi a Fratelli d'Italia che è all'opposizione racconta che le tasse aumentano. Che coincidenza strana, vero? L'avessi trovato su Repubblica, l'avessi trovato su Il Corriere della Sera, sulla stampa. No, lo trovo su Il Tempo. Unico giornale tra virgolette amico dell'opposizione. Che strano, vero? Che coincidenze che succedono in Italia. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.